bentornati alla notizia di grande fratello vip oggi con le ultime notizie like non avendo ancora legato molto alberto e nikita cercano di trovare un punto di contatto dopo le nomination nikita e alberto provano a chiarirsi i due sembrano essere incompatibili i loro vissuti sono molto distanti e i loro caratteri diversissimi nikita ha frainteso un gesto di alberto avvicinatosi a lei poco prima delle nomination di giovedì scorso per lei il ragazzo aspirava alla sua benevolenza e il suo improvviso interessamento le è sembrato sospetto alberto si difende a lui non importa nulla di essere nominato da lei credeva che la ragazza fosse rimasta scossa dalla storia di ele noiresi era accostato a lei per consolarla ma la sua freddezza gli ha impedito di pronunciare delle parole di conforto non ha bisogno del suo consenso né tanto meno teme che faccia il suo nome in confessionale nikita ribadisce che il suo fraintendimento sia scaturito dalla poca vicinanza dimostrata durante la settimana non rispetti esattamente il tipo di persona con cui vado d'accordo ammette alberto che del tutto sincero le dice che i comportamenti della ragazza sono distanti dal suo modo di intendere la vita tuttavia è affascinato dalla sua personalità e vorrebbe conoscerla meglio ho un pregiudizio positivo nei tuoi confronti le dice dispiaciuto per non averle parlato abbastanza è curioso di apprendere di più sebbene a volte la trovi un po indecifrabile nikita abbraccia concerte ascolta silenziosa il ragazzo lo guarda annisce e alla fine lo ringrazia senza manifestare palesemente il suo pensiero grazie per aver guardato l'intero video metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità ci vediamo nei prossimi video